Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo il stew medievale con rutabaga e il burro del porco, dal libro Anonimo Toscano, scritto nel XIV secolo. Iniziamo con gli ingredienti. Utilizziamo la rutabaga, il burro del porco, il burro del burro, gli ucchi e il saffrono. Puliamo la rutabaga e lo tagliamo in piccoli pezzi. La rutabaga è difficile da trovare in Italia, quindi abbiamo deciso di creare un po' planta. Se non lo avete, usate i torni. La rutabaga era ampiamente coltivata nell'antiquità e nel medioevo. Columella considera la rutabaga e la torni per i pezzi, e ci proviene un paio di ricette per preservarli con vinagre e brano, o coperti con mustard. Una ricetta più complessa per preservare una rutabaga appena in un libro scritto nel VIII o IX secolo, intitulata Appendicula de Condituris Varis e attributata a Ioannes Damascenus, in cui la rutabaga, tagliata in due parti, sono restata in brano per 4 giorni e in acqua calda per 3 giorni, poi si tratta in mezzo, cuocata e preservata con zaffrono, cardamomo, cinamone e musco. Aggiungiamo il pezzi e cuociamo con un po' di lardo per circa 15 minuti. Poi aggiungiamo la rutabaga e cuociamo per altri 40 minuti, con due pezzi di salto. Ci sono due ricette per la rutabaga o la torni per la Reco Quinaria e due per l'Observazione Ciborum, scritto nel VI secolo dal fisico bizantino Antimus. La prima ricetta di Antimus ricorda una delle Reco Quinaria. La rutabaga è sembrata e mancata con salto e olio, mentre nella storia romana è trasformata con olio e vinagare. La seconda ricetta dell'Observazione Ciborum, invece, è simile alla quale prepariamo oggi. La rutabaga è ricetta con pezzi di carne o carne. Il metodo è anche riportato nel Floriditarum, scritto nel XI secolo per le torni, con la suggerimento di cuocere le torni due volte, discorrendo la prima acqua di cuocere. l'Anonimo Toscano non specifica quale tipo di carne usare per questa ricetta, ma abbiamo scelto di carne fatta, come consigliato da altri autori. per questa ricetta usate il pezzi, il pezzi o il pezzi di carne. La ricetta, in realtà, è solo una lista di ingredienti, che includono gli ucchi e il zaffrono per colorare il giallo di tubo, il carne e il milio di carne. Potremmo interpretare questa ricetta in molte mani, aggiungendo carne fatta alla ricetta ricetta ruttabaga o solo ucchi, tagliati o calciati e tagliati in mezzo. Il milio è opzionale. Poi, la ricetta ricetta ruttabaga con carne sembra la più tradizionale, con la dietetica medievale. Per sapere più sulla base di questa ricetta, leggere il nostro nuovo libro, Libro della cucina Medievale Tascano, che include un'introduzione, noti e un glossario del vernacolo medievale. Nella nostra pagina di Patreon trovate articoli e tradizioni di storie antiche e medievali, tra cui i primi neve libri della ricetta ricetta, Appendicola del condituris Varis e del flore di etàrum. Inoltre, tagliamo un ucchio, aggiungendo un po' di milio e il zaffrono, dilutato con il frutto caldo. Poi mettiamo la misura nella panna e cuociamo per due o tre minuti. Per altri libri di cucina medievale, guardate l'Observazione Ciborum, le ricette medievale alle ricette medievale alla Corte dei Franci e il Registrum Coquine, un ricettario medievale. Per più informazioni sull'antica le ricette antiche, leggere il ricette antiche romane. Se siete interessati in ricette di ricetta storica, leggere le ricette italiane, ricette di ricette di ricette, ricette, frutta, erbe e flore. Per supportare il nostro lavoro, puoi anche comprare una birra e comprare il nostro mercato. Trovate tutti i link nella descrizione qui sotto. questo semplice era meraviglioso. La varietà di rutabaga che coltiviamo, il suo suono e il suo suono è inoltre tra l'apola e la poteca, delizioso ad aggiungere la carne di porco. la carne di porco e la carne di porco aggiungono una nota delicata e ricetta a questo tubo. Un pizzico di pepe nero aumenterà ancora questo stuo incredibile, perfetto per un mattino vento su questi giorni caldi. Se siete interessati in alimenti antiche e sapori, ascrivete al nostro canale e considerate il supporto di Ozone.